È un caos perché arriva gente a tutte le ore, a tutti i minuti e con tutte le problematiche. Io capisco anche i medici e gli infermieri perché devono assistere persone con problematiche completamente diverse. Quindi ogni volta si devono inventare quello che ha, quello che non ha e analizzare. Quindi è difficile, è veramente difficile. A parlare Giuseppe Marconi, ex vice sindaco di Arezzo, reduce poche ore fa da un'esperienza non troppo felice al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sono le 17 del pomeriggio del 29 marzo quando lo coglie un dolore al petto e subito la corsa in pronto soccorso. Io come sai purtroppo sono diventato un cliente fisico dell'ospedale dal 15 decennale dell'anno in corso e ho attraversato un po' tutti i reparti. E in effetti ho sempre trovato serietà, professionalità, comprensione, disponibilità. Quindi non c'è stato mai nessun problema e ho visto che effettivamente l'ospedale funziona. Nonostante il covid, nonostante che il personale e i medici vengano distaccati soprattutto per il covid e quindi vengano lasciati indietro anche altri servizi, però di fatto io di servizi poi non ne ho trovati. Questa volta invece sono dovuto andare a punto soccorso perché avevo problemi di respirazione, avevo delle pressioni al petto per cui il medico mi ha detto vai a punto soccorso e fa fare l'analisi. Entro le 20 sono stati eseguiti tutti gli esami ed escluso il peggio, anche se la visita specialistica da parte dell'unico cardiologo nel turno di notte non arrivava. La dottoressa alle 8 e 20 ha chiamato il cardiologo e aspetta alle 9, aspetta alle 10, aspetta alle 11, alle 11 mi sono nervosito, sono uscito anche dal letto perché mi aveva messo in corsia, in corsia è arrivata una marea di brande tutto intorno, per fortuna non ho il covid e quindi di conseguenza non lo vorrei prendere. Ho aspettato fino a mezzanotte, a mezzanotte ho detto sento la dottoressa mi faccia filmare la scheda perché io vado via non è possibile poter stare qui perché se no l'infarto mi piace davvero. Poi c'era un amico mio nel letto accanto e mi ha detto che mi ha mandato un messaggio quando è arrivata alle 047, quindi dalle 8 e 20 alle 047 sono 4 ore e 27 minuti, è veramente un'esagerazione. Dall'ASL fanno sapere che questa è l'organizzazione di notte, c'è un unico cardiologo disponibile, un altro è invece eventualmente inchiamata ma si trova a casa. Vogliamo ricordare che questa sua intervista che è uscita anche sui quotidiani locali, questa sua chiamiamola denuncia pubblica non è per tirare le orecchie ai medici e agli infermieri che come lei ha ribadito sono stati all'altezza ma proprio per tutelare la loro categoria che abbiano delle armi in più per fare il loro mestiere. Sono d'accordo con te, assolutamente, te l'ho detto già all'inizio, io ho trovato massima professionalità dappertutto e anche al pronto soccorso, però purtroppo questa volta mi sembra che sia stato veramente un problema. Questo non è dare un servizio al Comune di Arezzo, magari anche il Sindaco di Arezzo che si interessa un po' di tutte le problematiche di sanità, ospedali da campo, non ospedali da campo, si interessa anche i servizi che vengono dati ai cittadini perché oggi mi sembra che ci siano qualche lacuna da sanare in questa situazione dell'ospedale del Comune di Arezzo o magari anche gli altri che sono vicini. Così non va assolutamente bene.